Molte volte quando interveniamo siamo considerati l'ultima spiaggia, l'ultima spiaggia a dormire in auto, l'ultima spiaggia a vedere lo smembramento di una famiglia. E questo è il caso di Domi, di Alvaro, di Nathan e di Miriam, i due bimbi di 9 e 2 anni. Nessuno ci vuole aiutare, le istituzioni non ci aiutano. Abbiamo provato più e più volte a parlare col sindaco, con i servizi sociali, però loro non possono fare granché per noi. Una soluzione vi è stata proposta, Domi, quale? Quella di andare in una comunità in Emilia Romagna per famiglie, ma solo per un paio di mesi, non di più. Non si risolverebbe il problema? No, si ripeterebbe punti a capo. Rimanendo qui, invece, l'alternativa sarebbe una comunità per tre e due bambini, invece per Alvaro nulla? Nulla, lui farebbe la fine di andare a dormire in macchina. Alvaro e Domi, con i loro figli, sono una famiglia normale come tante altre, fino a qualche tempo fa lavoravano tutti e due, avevano la possibilità di pagare un regolare affitto, pagavate quanto? 400 euro. E l'avete sempre pagato fino a quando avete lavorato. A un certo punto è arrivato lo sfratto e loro già prima di essere sfrattati sono andati dall'amministrazione comunale. Dal sindaco e il sindaco ha detto che non mi poteva comunque aiutare perché case d'emergenza non ce ne sono, non ci sono altri tipi di aiuti. A meno che io non trovo un appartamento e loro mi possono garantire solo tre mesi. Ora, provate a immaginare, questa è una cosa che succede spesso, l'alternativa alla comunità quando va bene è il fatto che l'amministrazione comunale paga, a seconda delle disponibilità di cassa, qualche mensilità. In questo caso a Cassano delle Murge, a questa famiglia, sono stati proposti tre mesi in anticipo. Ma quale proprietario di casa, a meno che non si metta in mezzo alla conoscenza personale, affitta a una famiglia sapendo già che dopo tre mesi non potrà ricevere più nulla, è di fatto un'alternativa che non trova mai spazio. Seppure voi vi siete molto interessati a questo, avete anche provato a cercarla questa benedetta casa, ma non c'è? Sì, ma il problema è sempre questo perché se uno non lavora, se uno non ha un contratto di lavoro, non dà garanzie a un proprietario di casa che a sua volta, con giusta ragione, una casa non te la dà. Ad Alvaro il disastro totale è arrivato subito dopo il Covid, quando ha perso il lavoro e poi non lo ha più ritrovato. Lui ha sempre lavorato nella sicurezza, pur non essendo una guardia particolare giurata, ma poi non è arrivato più nulla, con esperienze negative fino a quel momento. Sì, perché dipendeva dalle aziende per cui ho lavorato, perché c'era chi magari ti dava l'acconto e poi magari ti dava il saldo. Magari se in quel momento lavoravo solo io diventava molto complicato portare avanti la famiglia. Quindi non si tratta di non avere o avere voglia di lavorare, si tratta in realtà di poter garantire sistematicamente ogni mese la propria famiglia. Ora, noi dobbiamo lavorare in questo momento, perdonami questo termine, lavorare, ma è veramente un lavoro, per priorità. Allora, la priorità assoluta è quella che Alvaro, Domi, Nathan e Miriam non finiscano per strada. Nel senso che ancora per questa notte c'è un bed and breakfast. Noi cercheremo di ottenere qualche altro soldo per potervi far stare qualche altro giorno in questo bed and breakfast, perché non appena si libera a giorni la casa di Quinto Potere, noi vi ospitiamo volentieri e gratuitamente a casa di Quinto Potere. Grazie, grazie Antonio. E questo per i bambini è proprio il primo passo, per avere un letto, per potervi cucinare, per poter badare a voi stessi, anche perché loro finora hanno pagato il BNB. Come l'avete pagato? Attraverso innanzitutto amici che ci hanno sostenuto e anche attraverso il reddito di inclusione che comunque... Ve lo siete bruciati? Ce lo siamo bruciati nel giro di dieci giorni, perché a 80 euro a notte, fate un po' il calcolo, Antonio, puoi ben capire. In più poi devi prendere i pannetti, i salviettini, devi comprare da mangiare soprattutto ai bambini per loro, perché almeno a loro devi garantire almeno le cose necessarie primarie. Assolutamente, ed è quello che proveremo a fare per questa famiglia, salvo poi ovviamente cercare un lavoro, perché siamo sempre più convinti che il lavoro sia l'origine o meno di tutti i mali o delle fortune di una famiglia. Esattamente. Perché con il lavoro uno può pensare poi di fare qualsiasi cosa, giusto? Sì, sì. In un tempo in cui, anche se hai una busta paga, probabilmente anche due, è difficile trovare qualcuno che ti dà credito per affittarti una casa. Dunque, questo è un appello urgente per Alvaro, per Domi, per Nathan e per Miriam. Dobbiamo in tutti i modi evitare che finiscono a dormire nella macchina che vedete alle nostre spalle, quindi intanto ci serve la possibilità di farli dormire ancora nel B&B, fino a quando per 3-4 giorni ancora liberiamo la casa di Quinto Potere definitivamente e possiamo ospitarli con grandissimo piacere. Restiamo a disposizione, lo diciamo sempre perché non vogliamo sostituirci mai a nessuno delle istituzioni affinché eventualmente possano chiarire qual è la loro posizione, cosa possono o non possono fare in questa storia che oggi ha il carattere dell'urgenza. Per ora e solo per ora è quasi tutto da Cassano delle Murci.